buongiorno a tutti benvenuti alla conferenza stampa di cesena ponte d'era il programma domani sera alle 20 45 partiamo sempre con le domande e vi chiedo aspettare il microfono buongiorno buongiorno allora dopo avere dopo il pareggio di ferrara hai superato indenne un bello stacco perché c'erano delle insidie nel turno hai guadagnato un punto che potrebbero essere anche tre ma insomma va bene anche così comunque si conferma anche per lo scivolone della torres a rimini che il giorno di ritorno come hai sempre detto è tutta un'altra storia si inizia un altro campionato con con diverse motivazioni con la consapevolezza dei pregi e difetti che può avere una squadra con la voglia di fare punti da parte di tutte le squadre che hanno un obiettivo ognuno da raggiungere quindi tu devi essere pronto ad affrontare questi impegni aumentando il tuo livello aumentando e alzando la tua asticella vogliamo dare continuità perché questo è un campionato di continuità punto di vista della nostra identità della nostra del nostro spirito non bisogna mai perdere quello che abbiamo costruito in questi mesi che è stata la nostra forza in questo dobbiamo dare continuità nell'esprimere la nostra identità il nostro spirito nostra anima che ci ha contraddistinto fino ad oggi buongiorno mister buongiorno donati di tutto cesena il pontevera ha dei dati che sono più che buoni considera questo scontro uno sconto diretto una squadra che c'è un'identità ben precisa ben identificabile in settimana ci abbiamo lavorato l'abbiamo studiata bene a nella parte offensiva dei giocatori che hanno delle qualità importanti giovani ma che ci hanno delle qualità importanti come tutte le squadre quindi l'impegno di domani sarà importante come quelle come tutte le altre partite è un momento del campionato perché ho detto anche i ragazzi che le stagioni passano attraverso alcuni momenti questo è un momento dove la testa la tua concentrazione la tua motivazione a prescindere dall'avversario da classifica che hai o dal risultato che hai fatto la settimana scorsa deve essere altissima è una qualità che i ragazzi ci hanno lavorato e ci hanno bisogna continuare a spingere sotto questa direzione ecco a proposito della sfida contro il pontevera carbon non è partito dall'inizio contro la spalla c'è la possibilità di rivederlo negli 11 è disponibile anche questa settimana di più magari ecco di più disponibile disponibili informazioni più che disponibili no ecco visto che parlavamo di ferrara avevi sottolineato alla fine della partita quello che era stata diciamo problemino tra virgolette no ecco la scarsa incisività offensiva cosa inedita rispetto a le ultime partite adesso al di là dei numeri è la partita dove avete prodotto di meno è lì che ti aspetti miglioramento ma quando produci di meno devi cercare di analizzarla a 360 gradi la la partita dove stanno i meriti o l'atteggiamento dell'avversario dove potevi fare meglio tu come atteggiamento come caratteristiche come qualità da mettere in campo in certe situazioni né in certe situazioni soprattutto di campo ne abbiamo parlato i ragazzi come sempre facciamo dopo ogni partita e c'è stato un fattore dell'avversario è qualcosa che potevamo fare meglio noi sicuramente ma nella scelta nella qualità magari anche partite fanno fanno parte anche o dipendono da da episodi magari la sblocchi come sempre fatto all'inizio magari la spalla di concede qualche spazio in più da poter sfruttare e la partita è diversa poi nel secondo tempo si è incanalata una partita molto equilibrata molto chiusa dove c'erano poi gli spazi da parte delle due squadre e quindi diventava difficile ci voleva il guizzo o lo spunto che magari a volte trovavamo ma a volte facevamo la scelta sbagliata come sarà giocare con con la curva mare chiusa con gli ultra che probabilmente saranno all'esterno giocherete con pensiero anche per loro assolutamente sì perché noi sappiamo che il nostro pubblico non è un pubblico di questa categoria è come se avessi un'assenza di un calciatore ha militato in serie a quando c'hai anche queste assenze devi essere così forte da fare qualcosa in più per sopperire alle assenze che può essere un calciatore il nostro pubblico che secondo me è di una categoria superiore giocheremo anche per loro per dargli una soddisfazione anche se saranno fuori rispetto alla sfida di andata quanto è cambiato questo ponte d'era è cambiato negli interpreti soprattutto hanno fatto delle scelte dove è andato via qualche calciatore importante che il giro d'andata ha fatto molto bene come catanese e come nicastro hanno inserito dei giovani che stanno facendo un buon campionato buon percorso come i nostri quindi nelle caratteristiche forse è cambiato ma hanno un'identità ben precisa che stanno portando avanti all'inizio del campionato stanno continuando a portarlo avanti scolta una domanda non particolarmente simpatica come come giudichi l'evoluzione di ogun 6 e l'evoluzione negativa di un elemento che all'inizio si è rappresentato bene e che poi si è perso già riconoscerlo ma guarda voi lo vedete solo la domenica io che lo vedo durante la settimana ha avuto un primo periodo dopo l'infortunio che veramente faceva fatica a ritornare nella condizione migliore oggi sta crescendo settimana dopo settimana poi è normale entrare su in partite o per pochi minuti o magari anche come domenica ha fatto 25 minuti una partita magari dove l'equilibrio era evidente dove magari le sue qualità potevano incidere di meno di altre però io sono contento di come sta lavorando come sta e sono contento e sono convinto che anche lui se continuerà allenarsi come si sta allenando e dare il suo contributo come sta dando durante la settimana arriverà a fare delle prestazioni importanti mister giovannini settimana scorsa non è stato convocato per febbre ti chiedo come sta come si sta allenando e se verrà convocato per la domani 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 va a giocare con la primavera perché tanto che non fa 90 minuti quindi siccome noi un calciatore che qui ci crediamo dove occupa un reparto dove noi siamo in tanti e stanno tanti e di qualità abbiamo bisogno anche che lui faccia 90 minuti per tenerlo vivo e pronto momento in cui ci servirà quindi per il resto ai gli altri sono quelli immagino franne coccolo che ha avuto un problema a polpaccio settimana e non sarà convocato per il resto ciò che sta continuando a spingere e lo vedo molto motivato e l'infortunio sembra che sia alle spalle facciamo i dovuti scongiuri per resto tutto bene dubbi nessuno ma cosa che sono un po dal cesena la torres tu hai visto la partita con rimini contro i rimini la guardita alla grande e poi si è un po persa anche lei questo può essere un segnale di stanchezza o no come lo come lo valuti la guardo come guardo tutte le altre squadre che potrebbero ri inserirsi o che hanno negli organici importanti che possono venir fuori come il perugia o il pescara come l'entella come la garrarese è un momento dove la testa ho detto anche ai ragazzi farà la differenza qui a prescindere di quello che è fatto la partita precedente di come è giocato la solidità mentale farà la differenza poi io guardi in casa mia in casa della loro guarderà il loro allenatore grazie